Siamo con Caterina Cereghetti, che è consigliere comunale, che si occupa di turismo e che segue tutte le manifestazioni della Cittadina, delle Rose e di Ospedaletti. Questa volta ci occupiamo di carciofo ed è giunta alla dodicesima edizione. Quindi sono già 12 anni che il Comune si spende per questa manifestazione, quindi perché? Sono 12 anni perché comunque qui abbiamo un carciofo buonissimo delle nostre campagne, che sono la zona Termine e Pordine. Questa è la dodicesima edizione, quest'anno ci avvaliamo della collaborazione della CNA, delle scuole di ospedaletti e all'interno di questo evento, di questa rassegna, abbiamo anche degli eventi collaterali. La CNA è stata proprio la promotrice di questa manifestazione che, come abbiamo detto prima, parlando con l'amministrazione comunale, ha l'obiettivo di valorizzare il carciofo di ospedaletti. Ecco, Luciano, come mai CNA si impegna in una manifestazione per promuovere un prodotto così locale, così specifico come il carciofo? Allora, innanzitutto questa collaborazione col Comune di ospedaletti nasce dall'estate scorsa, sulla manifestazione che abbiamo fatto ci sono stati tre eventi, tre eventi durante l'estate, con ospedaletti a tavola. Perciò è anche un po' proseguire sul discorso enogastronomico, sul discorso comunque del territorio, i sapori del territorio e della tradizione. I nostri ristoranti associati ci hanno chiesto in 14 di partecipare e di farli partecipare anche a questo show cooking, perciò attenzione al prodotto, al prodotto chilometro zero e poi soprattutto alla fantasia di questi chef a riproporlo sulle tavole, perciò dei loro ristoranti. Siamo con Michele Breccione, presidente della CNA di Imperia, che si impegna tantissimo in tutte le manifestazioni enogastronomiche, abbiamo visto nell'ultimo anno, avete fatto moltissime iniziative. Perché questa passione per l'enogastronomia? Perché l'enogastronomia è basata sul nostro territorio e noi crediamo a tutti i prodotti del territorio e per questo ci siamo impegnati, soprattutto in questa bella cornice di ospedaletti, a fare determinate manifestazioni perché crediamo e vogliamo realizzare qualcosa sul nostro territorio.